Buongiorno a tutti, siamo qui per un momento estremamente interessante, perché quando si parla di una pubblicazione è sempre una cosa molto interessante, specialmente in un periodo dove la carta è diventata un bene da conservare, adesso è tutto digitale, tutto sul computer, tutto sul telefono e quindi poter apprezzare un qualcosa di concreto sulle mani è importante e ve lo dice uno che ha fatto da tanto tempo e continua a farlo il giornalista. E parlando di questo lavoro presentiamo immediatamente l'autore di questo volume, tra sentimento e passione che è Michele Cesari. Michele, ne parlavamo prima, lo conosco da poco più di un anno eppure mi ha catturato completamente, mi ha trascinato nel suo mondo e quello che mi ha colpito di Michele è la sua duttilità. Ha un campo vastissimo di interessi e riesce a coinvolgerti, anche se uno vuole tirarsi indietro non ce la fai, bisogna che stai dietro a lui perché poi alla fine ti coinvolgi in maniera pressante ma soprattutto interessante. Questo volume è una raccolta di poesie che vanno dal 2016, se ben ricordo, a un anno fa. C'è una serie di emozioni che ovviamente cambiano nell'arco del tempo, nell'arco del momento in cui sono stati composti. Prego. Ci abbiamo il Presidente Francesco Acquaroli che a questo punto, siccome era un saluto, approfittiamo immediatamente. Praticamente il mio intervento funzionava nel senso che poi presentavo a Michele, però siccome so che il Presidente deve fuggire, a questo punto mi fermo qua e passo la parola direttamente al Presidente Acquaroli. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora intanto un ringraziamento a Michele Cesari che con questa raccolta di poesie intitolata Tra sentimento e passione, eccoci, dà l'opportunità comunque di fermarci e di riflettere sulla nostra interiorità, perché poi la poesia è quello strumento che ci permette di indagarci dentro. Quindi è uno strumento che intanto aiuta chi le scrive perché tira fuori la sensibilità presente nell'autore, ma attraverso la poesia poi dopo quando si diffonde agli altri si permette anche a chi legge di provare quelle sensazioni e di indagare anche delle riflessioni che ognuno di noi fa. Io ho visto il testo, c'è una frase che mi ha colpito, si parla dell'amaro nettare dell'esperienza, quindi ecco ognuno di noi, Michele in prima persona magari ha vissuto delle esperienze amare, però la cosa bella poi dopo di questa raccolta è che si conclude con la frase lascia che sia la vita, perché anche le esperienze brutte se noi riusciamo a superarle, a trasformarle in positivo, ecco possono scaturire anche dei messaggi di forza, di coraggio, di rinascita, perché alla fine la vita a volte ci mette di fronte a delle esperienze amare, ma che nonostante questo se le sappiamo affrontare con coraggio, ma anche con fede in noi stessi o in Dio per chi è credente, ecco ci danno l'opportunità di crescere e di dare anche qualcosa di più agli altri, dei messaggi positivi, perché poi questo è un po' il senso della vita, che la vita a volte sembra cruda, però è anche meravigliosa nella sua bellezza delle piccole cose e in queste poesie traspare proprio questo, l'importanza del senso della vita che dobbiamo cogliere ognuno di noi e cercare di dare sempre il massimo e prendere ecco quell'aspetto positivo anche dall'amaro che a volte siamo costretti ad affrontare, quindi ecco per questo messaggio veramente ringrazio Michele Cesari, ringrazio insomma di aver pubblicato questo volume e ringrazio anche per la presenza la consigliera Anna Menghi, la Presidente della Commissione Pare e Opportunità, Lina Vitturini e ringrazio la presenza anche della consigliera Leonardo Leonardo, tutti coloro che sono presenti qua in sala, saluto Zaffiri che era ex consigliere con noi nella precedente legislatura e ringrazio per la presenza anche il Presidente Acquaroli perché simboleggia anche la sua sensibilità rispetto a queste tematiche e quindi ecco lo ringrazio anche per la persona che è e che comunque anche per questo lato umano importante che sempre manifesta, quindi grazie e passo la parola a voi. Buongiorno a tutti e soprattutto grazie a Giorgia per le sue belle parole nei miei confronti. Io invece volevo salutare e ringraziare Michele per il lavoro e l'impegno che quotidianamente mette anche a fronte e a favore della comunità. Questo è un valore importante, una grande testimonianza che credo da merito a lui ma da merito anche a un suo grande percorso che ha fatto. Leggevo nella prefazione del libro, tra l'altro non avevo visto che sei laureato in un'economia bancaria, non lo sapevo, quindi credo che sia importante e non facile per nessuno mettersi a nudo, perché le poesie rappresentano una scoperta della propria interiorità, il proprio interiore messo su un foglio bianco che diventa, se volete, qualcosa che resta indelepite, un sentimento di un momento, un sentimento di un periodo, un sentimento di una vita e credo che avere il coraggio ma soprattutto il tempo, la voglia di andare a scovare se stesso per metterlo su un foglio e poi donarlo agli altri sia in questa società, in questa epoca che noi viviamo una forma di donazione veramente importante. Quindi grazie Michele per questa donazione che tu fai alla comunità marchigiana e grazie anche per questo tuo sacrificio, perché credo che alla fine sia anche un sacrificio, un atto di coraggio oggi quello di scoprire se stessi. Quindi grazie e spero sinceramente che avrò occasione di leggere tutte le poesie e avere anche occasione di approfondire il libro. Spero che durante il periodo estivo riuscirò a trovare uno spazio per poi leggere tutto il libro. Grazie, buon proseguimento. Allora, intanto, oltre ad aver ringraziato il Presidente, ringrazio Giorgia che ha fatto parte del mio lavoro presentando il tavolo. Quindi la ringrazio per questo. Ecco, io approfittavo in questo momento per chiedere a Michele cosa gli è passato per la testa di fare un libro di questo genere, cioè perché pubblicare delle poesie, come è stato detto già, mettersi a nudo. Per una sfida. Una sfida è vedere se, diciamo, il mondo che io, come ha detto prima Presidente, io sono lavorato in economia, vengo da un mondo economico, un mondo dei numeri, un mondo di analisi, costi-benefici, opportunità e via dicendo. Passare alla letteratura è un salto triplo carpiato all'indietro, come si sa dire. Però io ho anche un'esperienza, diciamo, da giornalista, perché sono quasi vent'anni che ho la testa da giornalista e ho avuto un mio giornale cartaceo nell'alto maceratese dal 2000 al 2010. Quindi, diciamo, è stato un volere ritornare nel mondo del quotidiano, nel mondo dei sentimenti. Dopo, sotto il lockdown, dei momenti per riflettere e pensare ce ne sono stati molti per tutti noi. Quindi, ho pensato di fare questo esperimento, anche spinto da una persona che è qui presente, che fortunatamente oggi è venuta, che è l'illustratrice del libro. La mia amica Francesca Farroni, che è una storia che dice di assoluto valore. Su questo argomento sai che poi ti interpellerò ulteriormente, perché l'abbinamento poesia con alcuni disegni sono di particolare effetto. Adesso io invece approfitterei di chiedere all'attore Enrico Verdicchio, e così almeno intramezziamo, di leggereci una sua prima. In questo caso, la poesia che è stata scelta è Ricordo. Ricordo. Sfoglio le pagine della vita tra un sogno e la speranza. Guardo il mio sguardo e vedo il dolore di chi non ama. Sogno un sole che sorge bagnato da lacrime di mare, due labbra che si sfiorano all'ombra di un salice solitario e dolente. Sfoglio le pagine della vita ed incontro il tuo profumo. Tra lacrime e sorrisi il tuo ricordo mi assale, lasciandomi di pietra innanzi al mare. complimenti anche Enrico Verdicchio che voglio ricordare che è attore della compagnia La Marca ed è stato un momento in cui si è sentita la sua professionalità in materia. Approfittavo a questo punto di un intervento da parte della consigliera Anna Minghi, se è possibile, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Grazie Michele per avermi coinvolto. Conosco Michele da tantissimi anni, qualche decennio, e ci abbiamo purtroppo una cosa in comune. Siamo danneggiati da vaccino e quindi abbiamo entrambi avuto un percorso difficile. Difficile perché ricostruire anche la propria storia, la propria disabilità, quando la disabilità nasce da una causa che ti dovrebbe invece, tra virgolette, evitare la disabilità, voi capite che insomma non è un percorso particolarmente semplice. Quindi voglio dire questo, due sensazioni. Innanzitutto la sensazione bellissima di un palazzo, tra virgolette, chiamiamolo di potere e quindi rispetto a quella formazione di Michele sull'economia e sui numeri che si apre alla poesia, che è un po', e qui prendo le parole dell'assessore Latini, è un po' la cifra di questa amministrazione e che è un po' la cifra del Presidente e cioè l'aspetto importante della risoluzione dei problemi e quindi anche dover fare i conti perché poi tutto si risolve anche facendo i conti, ma lasciando l'aspetto umano sempre in prima linea e questo è la cosa diciamo di cui io sono particolarmente fiera, di far parte di un'amministrazione che ha questa dualità, questa caratteristica. L'altra cosa che voglio dire invece simpaticamente che sono un po' Michele passami il termine, ho una sana invidia nei tuoi confronti perché innanzitutto perché io da un pezzo che dico che devo scrivere un libro ma ancora non ci sono riuscita, doppia invidia perché nella mia vita ormai ho appena compiuto 60 anni, non ho mai, non sono mai riuscita a scrivere un verso e quindi secondo me chi scrive poesie ha veramente quella capacità di cui parlava il Presidente prima di mettersi a nudo che non è esattamente, cioè di donarsi, io probabilmente l'ho fatto in un'altra maniera, ma denota quell'animo gentile, quella profondità di cui ripeto un po' invidiosa sono. Dall'altro chiudo questa così diciamo riflessione dicendo che cosa? Che dal dolore, qui riprendo le parole dell'assessore Latini, dalla durezza della vita Michele un po' tutti i poeti, Michele lo ha fatto egregiamente, riesce a trasmettere speranza, fiducia e questa credo che sia diciamo la cosa di cui lo dobbiamo ringraziare del regà, regalo che diceva il Presidente Bocanzi e che ha fatto alla comunità. Grazie Michele. Ringraziamo la consigliera, la consigliera, giusto? Il consiglier, non abbiamo di questi problemi, va benissimo lo stesso. Prima di dare la parola alla Vittorini chiedo un altro intervento da parte di Enrico perché abbiamo altre tre poesie da leggere, in questo caso ci leggerà Emozione. Emozione. Tu sei emozione. Sei quell'attimo d'eterno che sfiora il mio cuore, il soffio di vento che dona l'infinito, il chiarore del tepore d'autunno del sole che ti bacia nel giorno di tempesta, il sogno dell'iceberg disciolto all'incrocio del tuo sguardo. Tu sei emozione. Tu sei eternità. Ancora grazie Enrico e passo la parola alla Presidente del Commissione Pari Opportunità, Lina Venturini. Buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare anche all'assessore Lattini per essere qui con noi, alla consigliera Anna Menghi e a tutti voi insomma, al moderatore e anche all'attore che è bravissimo, davvero si sente un enorme sentimento proprio nella lettura. Voglio ringraziare Michele Cesari perché è un amico innanzitutto di vecchia data, veramente da una vita e lo conoscevo inizialmente come appassionato di politica ed economista, poi l'ho conosciuto successivamente come giornalista e sta dando un enorme contributo alla nostra Commissione Pari Opportunità Regionale perché insieme stiamo portando avanti una rubrica, la Commissione Pari Opportunità Regionale si occupa di vari settori e lui dà un grande spazio al settore della disabilità, quindi è un po' la nostra voce fuori onda, fa delle interviste particolari su questi argomenti, quindi è di grande aiuto per noi, è un progetto che è iniziato così per scherzo invece ha un'ampia risonanza, quindi sta andando molto bene. E adesso lo conosco come poeta, anche se come poeta poi lo conoscevo perché prima di metterle qui su carta si dilettava ogni tanto di metterle sui social, io le leggevo sempre e le apprezzavo incredibilmente tanto che ho detto spesso. Inoltre sappiamo che tutte le forme dell'arte, cioè il linguaggio dell'arte è universale, quindi quello pittorico, quello musicale come quello appunto adesso della scrittura e delle poesie, anche ieri abbiamo fatto un evento con la Commissione Pari Opportunità Regionale dove parlavamo di femminicidio con la musica, quindi è stato fatto un concerto meraviglioso, era pieno di gente, gente che magari non sarebbe mai venuta a una conferenza ad ascoltare le nostre tematiche e lì hanno fatto in musica la Carmen, il Rigoletto, la Tosca, cioè dove tutte le donne venivano comunque ammazzate per mano di un uomo, quindi in vari modi si possono affrontare le varie tematiche. Il titolo dice tutto perché sentimento e passione Michele, parli di amore, amore rivolto e le donne c'entrano tantissimo, quindi con quello anche che tratto io e i nostri argomenti, perché noi siamo attorniate da donne che è tutto, il circuito tutto circola attorno al sentimento, alla passione e a quello che c'è, quindi nelle tue poesie ho ritrovato tutto e davvero sono belle. La poesia che mi aveva colpito, che poi l'ha già citata l'assessore Latini, è la vita proprio l'ultima, bellissima. E poi so che, ecco faccio i complimenti anche all'artista, all'artista Francesca Farroni e so, mi hai detto tu, perché ti avevo detto che questa poesia mi era piaciuta particolarmente, che praticamente l'artista, quindi il quadro praticamente, la rappresentazione è il tuo ritratto, volevo sapere qualcosa in più su questo, quindi e anche chiedere proprio alla Colè insomma che ha fatto questo disegno. Quindi complimenti e va bene, noi la nostra è una collaborazione fitta fitta, quindi auguri anche per tu questo libro e questa edizione. Grazie. Ti ringrazio Maria, grazie a tutti, hanno le parole bellissime che non so se mi merito o non mi merito, io faccio quello che faccio per passione, per voglia di fare, per stimolo di vita, perché io sono una classica persona che mi vuole uccidere, chiudimi in un posto, non mi fa fare nulla e io muoio dopo due secondi. Perché la vita è movimento, la vita è sentimento e passione, ma nel senso che uno deve realizzarsi in quello che fa, che può essere tirare un segno con una matita, scrivere un poema, fare un dibattito politico, perché come dicevi tu Marielina, ma io di esperienza politica ne ho anche troppa, sempre dietro le quinte, ma non veramente anche troppa. E quindi il vivere è fare, e scrivere un libro è appunto fare e donare una parte di se stessi agli altri. Dopo c'è a chi piace, a chi non piace, a chi critica, a chi non critica, ma quello è la vita. Per quanto riguarda proprio questa poesia della vita, io vorrei che questo quale venisse spiegato da chi lo ha fatto. So che sto rovinando un'amicizia con questa richiesta, però… Perché fa che io proprio non mi rende un'amica… Francesca, vieni. Grazie. Ma innanzitutto… Mi trovo? Ma ecco, perché sono esperta. C'è da dire che è iniziato tutto così per caso, perché abbiamo un amico in comune e quindi abbiamo fatto questa collaborazione, è partita prima della pandemia e i disegni raccontano la nostra storia, proprio un passaggio dalla matita a dei bozzetti veloci, invece a mettere il colore, a usare un altro tipo di tecnica. Io questo disegno, questa illustrazione la chiamo proprio Michele, perché rappresenta Michele proprio… com'è Michele? La stabilità di Michele è data dalla pianta che è fissa con le radici al terreno, ma nello stesso tempo io dico che Michele è fermo ma ha il cervello a 2000, proprio è un continuo pensare, inventare e non sta fermo un secondo, è una staticità che è in movimento. E niente, l'abbiamo scoperto in una versione da poeta, quindi come tutti i poeti invocano alla luna un consiglio e la linfa vitale è data proprio dalle radici, che le radici che lo tengono fermo, stabile, ma nello stesso tempo lo tengono in vita, in vita proprio… in vita. Niente, sono stata molto… per lungo tempo, tanto che non è già pensato a un altro… a molte cose sta già… Ho l'immaginazione di due libri, però con calma. Con calma. E niente. Allora, adesso richiamo un'altra volta Enrico e andiamo con la penultima poesia, Alba d'Inverno. Alba d'Inverno Il cielo si vela di rosso candore, con nubi danzanti alla nascita del sole. Una brezza velata carezza gli sfogli rami degli Ippocastani, infreddoliti dal gelo della notte passata. Il giorno si sveglia, lento e stanco, aprendo le porte ad una nuova storia. Salutiamo l'assessore Giorgia Lattini, che come già ci aveva detto, hanno lavori in giunta e poi con la legge 13 credo che avranno veramente molto da parlarne. Allora, ci approfittiamo tranquilli verso la parte finale, ma io prima di arrivare alla fine volevo chiedere un'altra question time a Michele. Nel momento stesso che hai deciso di pubblicare questo volume, adesso ti è partita la voglia di andare avanti? C'è nato già qualcosa, quindi... Mi è presa la voglia di andare avanti, di non fermarmi e, come è mia consuetudine, di fare diversi generi. Io già sto preparando un altro libro di poesie che copre tutto l'arco dei tre anni della pandemia alla guerra in Ucraina, quindi momenti molto pesanti. Dove adesso sto ultimando la parte scritta dove saranno un insieme tra poesie e riflessioni, quindi non solo poesie, e ovviamente ci saranno le quali. Non dico chi ha l'autore, ma ci saranno le quali. Noi speriamo che sia un continuo. Speriamo, ecco. Io chiedo ufficialmente, vuoi collaborare a questo nuovo libro? Era difficile di dire sì, no. Va bene, ti ringraziamo. Poi sto scrivendo, stiamo incominciando un altro lavoro, questo molto più impegnativo, che nasce un po' da collaborazione con la Commissione Pagli Opportunità. Siccome stiamo analizzando dei casi anche di tematiche sociali molto importanti, sia dalla mala sanità, dalla mala giustizia, a tematiche molto sociali, quindi, diciamo, da qui a breve dovremo lavorare su di un libro dove riporteremo tutti quei servizi, quei interviste che ho fatto, li riporteremo su carta stampata, così da dare la possibilità di una maggiore diffusione di queste discordanze che la nostra società porta a chi, per sfortuna o per gestire la vita si trova in difficoltà. Assolutamente. Allora, andiamo verso la conclusione. La conclusione sarà data dalle parole di Michele attraverso la voce di Enrico. Vi ringraziamo tutti quanti di essere presenti. Questa è una testimonianza dell'amicizia che ci lega con Michele, anche perché è un'amicizia che poi alla fine dà anche dei buoni frutti, perché essere coinvolti in attività che spesso hanno un sapore di essere presenti nella società, questo è molto importante, specialmente in questo periodo che non è un gran bel periodo. Quindi, di nuovo, un ringraziamento a tutti quanti che sono intervenuti. Chiede Enrico l'ultima poesia e poi ci salutiamo per ognuno le proprie destinazioni. La poesia è Buia è la notte. Buia è la notte. Buia è la notte. Stanco e lento è il respiro dell'anima. Al fioco riflesso della luna calante. Buia è la notte. Al risplendere lucente della gioia di un tuo bacio. Se posso vorrei chiudere con Libertà. Libertà 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 di respirare nella notte all'ombra di un faggio abbattuto. Libertà 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 di gioire per una lacrima che solca il deserto sul mio viso. Libertà Libertà di vivere di te anche senza te. Libertà di essere libero. Su questa sedia che fa parte di me. Se vuoi dare il rompere le file. Io voglio ringraziare tutti veramente per essere intervenuti. Ringraziare chi mi ha accompagnato in questa presentazione. Anna e Maria Lina, due amiche di vecchia data con cui per varie cose abbiamo vissuto esperienze uniche. Ringraziare l'assessore e il governatore che mi ha onorato della sua presenza. Ringraziare tutti voi soprattutto. Grazie infinito e spero che questo libro vi piaccia veramente. Grazie. Grazie a tutti.